Quattro anni sulla distanza di 1600 metri, ritirati elegant di noi Enea di Casei, Enea di Casei dopo sgambatura negativa. Massimo Pignatelli lo ha ritirato e quindi restano in 14, sette in prima, sette in seconda fila. Alle redini lunghe dello start, Andrea Savarese. Dallo steccato, Ellen Dipa, Ergo, Euforia di Henry, Hermos Opie, Enea di Bielle, Thomas e Raphael. Seconda fila per Elisabetta Griff, Elfo, Eros SL, Empardi Pioggia, Erida Junior Bride, Spressadal, Esmeralda Sferra. Ergo, Euforia di Henry, i più veloci, quando l'autostart se ne va. A largo interviene Hermos Opie, Enea di Bielle non è partito sollecito, Thomas punta sui primi. 13,8 i duecenti iniziali, squalificate l'Endipa, diverse le rotture con Thomas che viaggia tranquillamente in terza ruota. Squalificato, squalificato, espressa dal 28,8 il quarto iniziale. Thomas raggiunge Euforia di Henry e la sopravanza un po' in difficoltà, sbaglia Thomas. Thomas si è chiuso d'ambio, 43,2 i seicento. Euforia di Henry affiancata da Hermos Opie, in seconda pariglia, Enea di Bielle, in terza in pari di pioggia, in quarta Erida Junior Bride. Metà gara in un minuto scarso, Euforia di Henry richiesta, la mossa in terza ruota di Enea di Bielle. Si libera dallo steccato Ergo sul calo netto di Hermos Opie, al chilometro, percorso in 1,15 e mezzo. Passa Ergo, Enea di Bielle a largo. E' un par di pioggia, Elfo di dentro. Tre quarti di miglio, ultimati in 1,29,8. In vantaggio Ergo, deve trovare da correre Elfo. Era a 66 contro 1. Retta d'arrivo, Ergo in vantaggio, ci riprova Enea di Bielle, lo raggiunge. Enea di Bielle, un po' remissivo a fare il sorpasso, Enea di Bielle. A largo interviene Enea di Bielle, Enea di Bielle è passato, Enea di Bielle lo avvicina. Enea di Bielle, doppia il successo di Aversa, nelle mani di Emanuel Limongelli, che lo guida in maniera perfetta. Per la gioia del suo entourage, Ernesto Piperno e compagni. Il portacolori di Luigi Iannella, allenato da Michele Di Maro. E' un figlio di Yankee Slide di Roxana Dete. Buona performance quella di Empire di Pioggia, che chiude a mezza lunghezza dal vincitore. Per il terzo si difende Ergo, andiamo a vedere il quarto. Il quarto è il numero 10, Elfo. Per cui arrivo probabile ed ufficioso, Senea di Bielle, 13 Empire di Pioggia, 3 Ergo. E il quarto, quello che vi abbiamo detto prima, il 10, Elfo. Media di 1,14 e 6 per il vincitore. Grazie. Grazie. Grazie.